Uè, uè, basta adesso, basta, no? Uè, uè, tieni a destra piuttosto. Desidera? Per la sua bambina? No, 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 guardavo più che altro. Prego. Ma scusi, sono resistenti sul dietro? Garantiti, solo mutandina? Come dici? Dico solo mutandina o anche reggipettino? Uh, Donino, che amore, mi copri il costume. Farvi vedere? No, questo è mostruoso, questo non esiste. Ah, questo è di peste. Fammi vedere un po' qua, vediamo. Ma che, ma che, tutto schifo. Questo, questo, ma questo non è mica male. Ti pare, questo è meno schifoso. Tu ti intendi di questa roba, no? Ti piace? Di, eh? Come vi sta? Ti piace? Eh, Donino, grazie. Vieni. Guarda cosa mi ha comprato Donino. Meglio anche il reggipetto. Quante scusi? Nove mila. Che si chiama? Jamba.